Oh e benvenuti a questa nuova puntata di io non so cucinare ma ci provo Oggi ci trasformeremo in Harry Potter per fare la tua birra Iniziamo subito con l'incantesimo di lievitazione Wingardium Leviosa Ho detto lievitazione non levitazione Vabbè iniziamo con gli ingredienti 175 grammi di zucchero di canna 90 grammi di burro 100 milligrammi di panna 2 cucchiai di acqua 1 cucchiaio di sale 1 cucchiaio di aceto di mele 300 milligrammi di gazzosa E adesso andiamo a cuocere tutto Mettere in un pentonino lo zucchero con l'acqua E portarlo sul fuoco a fiamma bassa Farlo caramellare fino a quando non diventa cremoso Aggiungere burro e mescolarlo fino a farlo sciogliere E poi aggiungiamo sale, aceto e mescoliamo insieme alla panna liquida E quando sarà freddo aggiungerà la gazzosa Mescolata e pronta per essere bevuta Io non so cucinare? Ma ci provo!